ben tornati con il let's play di crash patch sempre let's play in cooperativa con dottor cazzetto quindi facciamo il secondo gioco che siamo a pescici questo e infatti credo lo sanno altrimenti come facciamo registrare con la madonna ma che vuole una finestra tappata che sta là si ho sempre avuto questi questioni che abbiamo avuto allora ci vi ho appena eserciato in un filtro che abbiamo appuntato sul secondo canale si allora che lo so che devi fare devi buttare verso i personaggi su si lo so però qua non c'è il bordo, guarda la sorta che sta nel bordo qua non c'è quindi è più facile morire tu di chi ti occupi di chi capita canale si porca boia non morire porca boia porca boia morite ok il primo è andato a far culo e anche lo sono andato dai muore scimmia del cazzo inculata scimmia di merda no tutta la eva maledetta squadrina che è successo abbiamo ah bello è solo uno zero uno hanno avuto culo tu ti occupi di cortex io dei rilaroni ok sono tutti due volte è stato fin troppo facile ok ma anche in tre sette secondi perchè poi per prendere le gemme bisogna farle in 30 secondi quindi prendere la gemma sarà una cazzata per lui allora sembra la sua sveglia di prima ma che sveglia di prima ma che sveglia di prima ma dovevo prendere la gemma 30 secondi che ci vuole per noi prendere la gemma non ci vuole un cazzo guarda quattro secondi che abbiamo messo quattro secondi lei ci vuole per la gemma ma il primo ma il primo quando ha buttato un gioco a me oh non fai pareggiare quattroioni wow stupido no no hai il fulmine lo devi prendere le più fulmine eri tutti e due se lo hai vuoi giocare giocare l'ha di soltanto prendere quel cazzo di fulmine gio 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 adesso dobbiamo vincere per forza adesso dobbiamo vincere per forza perchè stiamo su 2 a 2 dobbiamo vincere per forza quindi cazzi a posto concentriamoci io lo so sembra la strategia si non fa niente dai niente è buono è buono è buono tutti controvorte prendi i fulmine si andò con i filmi da vinciamo muore andò si immobilizza tu ti sponda a buttarlo su vai si immobilizza e poi è morto lui e anche questo livello è superato 3 a 2 battaglia epica adesso viene un livello difficile per ora lo saltiamo e lo facciamo dopo che ne dici ce lo lasciamo per ultimo adesso un livello di lottati ricordi di lotto questo qua ci lasciamo dopo con una rottura di coglioni e facciamo space dash qua devi buttare... no, qua devi uccidere la gente ti ricordi quando aveva ucciso stroiano? che hai detto? che hai detto qui? che hai detto qui? pochè di no di o cani perché noi siamo fantasmi? noi siamo fantasmi di o cani qui ma attenzione oh ah c'è la prende da quelli incudine non la prende per essere lontanati da cortex impossibile andiamo a vicinare da quale, non cortex sanfio alzano alzano quando uno siamo posso pensare di vincere quantità bomba come cristo si chiama lui è morto con la scimmia da un merda rotta in culo la scimmia rotta in culo mi hanno raccontato che è rotta in culo e non sobbia raccontarmi e poi ho rotto in culo che ne dici poi ho rotto nel culo nello straculo tu guarda cortex io contro la roccia per scappi sconto mi chiamato a me dai copia a colazione un po' per te un po' per te buco buco d'accordo no santa maria di calcutta la quale era madonna almeno porto su di valore l'uomo 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 e mursa soccola se 2 a 0 la squadra uno in cula insomma ma scommettere come ci chiameranno per mangiare si iniziano la rottura di pallozze sta cazzo di l'uomo per me è rotto in cuore e io maiale e giocare eccolo questa l'abbiamo persa l'abbiamo persa ah se la possiamo fare visto che rilano è morto basta fare il suo tempo contro cortes sono morto anch'io si vuole figlia di tutt'altro l'uomo ha vinto vabbè 2 a 1 possiamo vincere concentrazione concentrazione andiamo lo sai che mi serve che mi sembra lì la roma scimmia la signora mi stanno sono identici infatti ma da come balla stasso io ho un giuro la maestra è già buttato giù per te ti chiedi a mazzai tappo giù la stessa decine mazzare il porco oh ho buono h l'uomo stacca ultimoggio l'uomo sto zocco no 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 io cazzo fico stile io cazzo fico stile d'accordo ma io cazzo fico anche questo trofeo ha conquistato adesso sto a livello e ti spiego che cazzo devi fare, studi di fare i cerchi devi fare dei cerchi sarà un bordello sperare questo livello già lo so se si servirà la madonna in cielo per sperarlo quello che abbiamo sartato prima bastardo poco a poco devi fare i cerchi per terra ora si spiego ti ricordi quello che bisogna fare a prendere le casse sono ricordi? eh, ora guarda tu hai visto che se così devi fare dei cerchi devi fare i cerchi dei quadrati anzi devi fare i quadrati così guarda come sto facendo io, devi fare i quadrati così, hai visto? si possibile? no, non so a me possibilmente, vai a fare da un'altra parte capito carai vai di qua giugica più no, su questo devo cambiare le aree mi sa su di andare dal tuo... tu sei rosso, vieni l'area rossa porca puttana troia bastarda lurida schifosa le super scapfe quelle sono utilissime a questo livello dai porca troia le super scapfe con il figlio di una mignottuna dai, siamo messi bene, possiamo vincere eh, quel cazzo che possiamo vincere ti ricordi di fare di più se no non vinceremo mai ti ricordi di fare di più quindi non ce la faremo mai vabbè, adesso stai andando bene, mi stai piacendo io canne, fammi ora stai andando bene, ce la possiamo fare dai ce la stiamo facendo dai, stiamo vincendo loro io ne ho fatti un casino per il momento stiamo avanti noi dai tu fai non così di fare che mi faccio io, guarda no internamente bravissimo, bravissimo eh, li possiamo battere sti rotti in culo figli di puttana inculati dopo la santissima trinità ma è una bestemera tantissima trinità che ero poverissimo però se non li facciamo dal stesso punto se non li facciamo dal stesso punto se non li facciamo dal stile analizziamo non vincendo io vengo eppure di parecchio, li abbiamo distrutti stiamo giocando, sbaglio è la mia impressione stiamo giocando benissimo in questa parte stiamo facendo un sacco di livelli oh vabbè fida di puttana ma le scarpe che camminano le scarpe che camminano le conosci le scarpe che camminano? a te ti piacciono le scarpe che camminano? perchè ci sono le scarpe che non camminano capito? ci sono le scarpe che le camminano e le scarpe che in culano le scarpe, le scarpe si le ha prese lei con la sbaglio di merda oh cosa possiamo perderla seriamente quindi voglio concentrarci ora la scimmela merda marron bucazza mestrui e che giocare pure a me adesso o questa è il netto svantaggio questo andrà per il cavallino ma le best capo che è subito tutto lo spazio il cane la scimmela per non c'è la prossima fare non è finito un cazzo in grado di uno secondi scuola scuola colpita con la squadrina di merda che si inculasse satana che ha fatto il tuo pacco di punti 24 ce lo possiamo fare fedele va lo cavolo giga se riesco a fare st'altro pacchetto di punti qui e che cazzo e la scimmela copiato tutto e per me ok se ci abbia fatto stili se l'ultima tevi e anche di morto adesso andiamo per il terzo di seguito il giorno è tutto il livello è difficile lo stiamo facendo come se fosse cioccolato il cavallo sinistra non lo sai dire sui miei giorni porca boia ci siamo iniziali la scuola scuola diciamo che abbiamo fatti dai edio cane managgia a cortex la scimmigrazione di cazzo ed io andiamo ma per la testa del giugno il nuovo apparecchio bestemmiare il cavallo il mio cavallo di gioia che diciamo che io ero non è come un gioco non ci censuriamo e si va a capare la minchia o ma quella troia però non c'è il mio canale con te che sarò per il cazzo e no la cimera tv e se non lo è e perchè e no dai dio maiale e che cazzo e vabbè lei o me non ci capisco se possiamo vincerla siamo in netto vantaggio basta che non facciamo stronzate e sei quella sguadrinata adesso riesco a fare sto botto di punti 19 punti dai stiamo stravincendo guarda che cazzo stanno facendo là dentro 18 vai è quasi fatta è quasi fatta 12 12 12 mi sembra veramente facile qua l'ho vinto giusto guarda che distacco guarda abbiamo lo di più di più di cento abbiamo distrutti tre trofei un video record mondiale ci vedi da stavo registrando uccidò dio n n n n ok direi di interrompere quel video perchè nella prossima parte fermo un livello rotto in culo qui da un bigol senix eh tocca al set alla prossima vi fare un saluto particolare tocca a bocchia il saluto particolare è stato questo quindi